Buon pomeriggio amici e fratelli rosa nero amici in generale di youtube Ieri si è giocata a Palermo Campobasso intanto scusatemi se il video non è uscito ieri Ero impegnato diciamo che ero impegnato in un traslogo non ho avuto il tempo di fare il video La partita l'ho guardata dalla macchina in maniera sicura Ho comprato il cosino che si mette là dove esce l'aria dove poggiare il telefono Mentre Guido riusciva a dare un'occhiata ovviamente non avendo la vista in diretta bene Prima di fare il video l'ho voluta rivedere anche se è risultato già finito è risultato già consapevole Che in un certo aspetto a volte è meglio perché a freddo con il risultato che già conosci Riesci a notare più cose della partita perché la guardi senza coinvolgimento emotivo Per questo ho aspettato oggi per fare il video perché poi ieri sera l'ho rivista la partita Allora una partita che il Palermo doveva vincere assolutamente Doveva dare uno scossone emotivo doveva dare una dimostrazione di carattere E ieri i ragazzi lo hanno fatto veramente ma veramente bene Il Palermo è partito subito alla grande Dopo 5 minuti stavamo già 2-0 Ma non un 2-0 casuale Cioè con due gol riusciti Ma un gol più bello dell'altro Ragazzi il primo gol di Silipo è veramente bellissimo Poi da un contropiede Da un gol facile sbagliato da Floriano Perché Floriano era tu per tu col portiere e lo ha sbagliato È nato il gol di Valente ancora più bello Il pallone che gira sul secondo palo Accarezza il palo più lontano Si infila in porta facendo 2-0 Ovviamente dopo 15-20 minuti con questo sprint esagerato E altre due occasioni sprecate dal Palermo È uscito il campo basso Perché poi ovviamente ti viene un po' a mancare il fiato E l'abbiamo tenuto bene Perché il campo basso ha avuto 2-3 occasioni Ma non sono state veramente pericolose Il secondo tempo diciamo che è successo già qualcosina in più Abbiamo avuto, anzi se non mi sbaglio Fu nel primo tempo l'espulsione del giocatore del campo basso Per doppia munizione nel secondo tempo c'è stato Il gol che ha accorciato le distanze Una papera di Pelagotti In questi anni Pelagotti io non mi ricordo tante papere Quasi nessuna ma quella di ieri è una papera bella e buona Perché tu sei a coprire il primo palo Non puoi prendere gol sul primo palo Ma ci sta, può capitare Pelagotti finora è sempre stata una delle nostre garanzie Sul 2-1 succede un po' di tutto Espulsione a Auger Rigore per il campo basso Allora per coloro che dicono che l'espulsione di Auger non c'è Io da palermitano non sono d'accordo Perché anche se non fai male Anche se non prendi in pieno L'intenzione di quel fallo è veramente brutto Non si entra con piede a martello e gamba tesa Già solo per entrare così Uno merita l'espulsione C'è poco da dire Per quanto riguarda il rigore dato al campo basso È palesemente regalato Perché il giocatore del Palermo Entra sin scivolata Ma prende palesemente solo il pallone Tant'è che il pallone cambia direzione Non lo prende proprio il giocatore del campo basso Cioè prende il pallone Quello non può essere rigore Se l'arbitro che vede l'azione da dietro Non capisce Deve essere aiutato dal guardialinie Quindi lì non è tanto un errore arbitrale L'errore sta nel guardialinie Che guardando l'azione di lato Non si accorge che arrivando in scivolata Il pallone cambia direzione Quindi palesemente prende il pallone Fortunatamente ci aiuta la traversa del Barbera A salvare il risultato E tenerlo sul 2-1 E poi nel finale Un bellissimo contropiede E chiudiamo la partita 3-1 Ieri abbiamo visto gioco Abbiamo visto carattere Finalmente abbiamo visto dei gol Abbiamo visto un po' di spettacolo Al Barbera Io non mi voglio gasare Per una singola vittoria Io voglio continuità Adesso dobbiamo trovare continuità E soprattutto dobbiamo Cercare di vincere Lontano dal Barbera Perché in 6 giornate di campionato Ne abbiamo vinte solo 2 Tutte e 2 In casa nostra Quindi mi raccomando Dobbiamo cercare di non avere timore Quando andiamo a giocare fuori Siamo anzi rappresentate Il Palermo Rappresentate Palermo Rappresentate una squadra Che comunque ha una sua storia Non vi potete spaventare Perché andate a giocare A Viterbo Contro il Monterosi Il Palermo Deve dimostrare Di essere Palermo Anche fuori casa Ragazzi Io su questa Bella partita Finalmente Una bella partita Con dei bei gol Con del bel carattere Giocata dai nostri ragazzi Non ho altro da dire Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Di Luigi Rosanero Nel bene e nel male Comunque Sempre Forza Palermo Grazie a tutti